Ciao a tutti da Saridore e bentornati su Simba the Cat. Oggi il nostro Simbetto scenderà di nuovo in pista guidando due potentissime macchine, due potentissime GT3. Purtroppo non riuscirà a fare la pole perché è stato distratto dalle ammiratrici che erano sugli spalti a fare il tifo per lui. Tutte con le zizza al vento e quindi non siamo riusciti a fare la pole ma ci siamo piazzati ugualmente bene. Non aggiungo altro dai buona visione. Michio! Ciao Simba? Simba sì ciao lo sappiamo che sai ballare. Allora caro Michio oggi ci aspetta Will's Cat e sono curioso di sapere. Ho visto il gioco che si è aggiornato ma non so cosa si... Cosa abbia aggiornato? Ecco. Simba andiamo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Il Michio un Porsche! Abbiamo due macchine chissà per quale ragione. Ah lì c'è la corsia dei box e l'uscita. Ottimo. Ok Simbetto mi salga sulla vettura! Ah! Eh! Gioco! Ah! Ah madonna! Simba faremo Allora La cosa più complicata di quanto posso sembrare Ok siamo andati non lunghi di più Simba abbiamo già fatto un casino Abbiamo già lasciato il paraurti lì Ottimo Mamma mia Sto cercando di giocare con la tastiera Ma è impossibile Simba cerchiamo di fare un giro Almeno uno Dai ti prego Quanto cazzo va sta macchina Ce ne abbiamo lasciato talmente tanti Che la metà basta Mamma mia è complicatissimo Allora facciamo il giro a prendere tutti i polli Poi lo facciamo dopo Quello lanciato Ok Simba abbiamo fatto un casino Sì abbiamo fatto un discreto casino Simba Nooo mi tocca farmi tutta la pista indietro a piotte Vabbè passiamo di qua Dovremmo fare prima dai Ho capito perché ci sono due macchine E non sono sicuro che bastino Oh nel caso riavvio eh No problema Però cazzo Ok Simba prendiamo questa Tanto cerchiamo un po' di sbloccare quell'altra Perché Sì ecco E la madonna E la madonna Non è neanche tanto sensibile sto coso E no niente Figuriamoci Simba C'è la curva Chissà se posso attaccarci il volante Simba facciamo questo giro Poi ci provo Mamma mia E la peppa Ci siamo girati Simba Vabbè volevamo farlo eh Mamma mia sta macchina qua parte di culo in un modo assurdo Porca Eva Eccoli Tanto il meccanico e il carrozziere non lo paghi te eh Eccoli Tutto che inizia a sbagarsi A baggarsi cioè Vabbè Eccola qua Allora cerchiamo di Recuperarla Perché lo so che prima o poi mi pianterò male anche con questa eh Ok Ti fermi? No non si ferma Riusciamo a prenderla questa? Sì riusciamo a prendere questa Andiamo a recuperare quell'altra se si ferma Fermete Simba il freno a mano Non bisogna tirare Oh ce l'abbiamo fatta Alleluia Dicca come l'abbiamo massacrata anche questa Oh Andiamo Facciamo il giro lanciato Ci proviamo Secondo me finiamo malissimo Guarda quanto fa Ecco eh sì è finita malissimo infatti Mamma mia quanto cazzo viaggia Dai questa chiude tanto eh Mamma mia Mamma mia È divertente Guarda come viaggia oltretutto Eh sì ma Eeeh Ma madonna Eh sì mi sono dimenticato della curva Mi sono ritrovato un attimino in panico Ok sì ma facciamo passaggio ai box Che non ce ne mancano tanti Guarda dov'è la palla L'uovo va bene Mi sbaglio sempre Non c'è speranza Prendiamoci questi due Ok E l'altro lì davanti Eccoli Ci siamo bagati nei baffi Come al solito E abbiamo preso tutto Abbiamo preso tutto Ok E adesso come l'altra volta Ci sarò un'ora e mezza a tirare eh Abbiamo perso qualcosa Non so come Allora questa chiude Sì questa chiude Mamma mia Guarda come viaggia Aia Eeeh Oh è sempre sta curva Che me la svanisco eh Quanto fa sta macchina per curiosità Eh il 200 si arriva Li supera Cazzo è il suo coso Ha un paraurti Zimba Abbiamo fatto un casino Oh però la macchina va ancora quindi Allora assetto corsa competizione E' più semplice A paragone è più semplice Zimba Sta succedendo un casino Sta succedendo un casino Oh Dio Bellissima la macchina a fiamme Oh Dio Vai Non te mordiamo Nooo Che peccato Eh nooo Oh Appena becchi l'erba Qua voli eh Abbombazza Abbombazza Tanto ormai Allora questa è quella discesa Au Ma la macchina continua a dare Io vado Mamma mia Eh nooo Che palle Ok si è riuscita a disincastrarci Non so come abbiamo fatto Ma va bene Abbiamo perso una portiera Au Scusa Zimba Ma guarda come è fatto il motore Vabbè a parte che è in fiamma adesso Ma dettagli Ma guarda i particolari Ma che spettacolo Au Eccoli Abbiamo perso anche l'altra portiera Ottimo Allora Anche dettagli interni Guarda che non sono mica male eh Ce ne abbiamo perso di tempo per farli eh No mi si è bagato il micio Allora Sì ma Si è bagato tutto Ho dovuto riavviare il gioco Sono andato dritto In questa curva Là dovrebbe esserci La nostra macchina E Non c'è Vabbè Comunque è qua Da qualche parte eh Ok Andiamo a piotti A prenderci l'altra Ah 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 Arriveremo dopo domani E Sì sì ma E Diciamo che sono Questi pezzi avanzavano Ecco Mettiamola così Non servivano Erano superflui Era solo peso extra Dai simba Sono quasi cinque minuti Che stiamo correndo Dovremmo essere arrivati ormai Mamma mia Ecco Vedo l'altra macchina Vediamo di far sparire anche questa Già che ci siamo Mamma mia È geniale È bellissimo Un po' meno quando devi fartela a piedi Allora Io stavo guardando Il livello di dettaglio E Mamma mia Cioè Guarda le gomme Con le scritte Che si possono anche leggere Oltretutto Anche il dettaglio Della pinza dei freni Che voglio dire Non è niente male eh Cioè ci sono dei giochi Molto molto più Molto molto più Diciamo Che comunque Questo livello di grafica Di dettaglio Non ce l'hanno Ma guarda Guarda che spettacolo Che non è Ci hanno perso Veramente tanto tempo A fare Queste cose Ok Simba Spacchiamo anche questa Dai Perché ci siamo Eccoli Perfetto No Abbiamo incasterato Pure questa Ma no Eh niente da fare Simba L'abbiamo incasterata Ben bene Ok Simba Su questa immagine Trionfale Direi che possiamo Terminare qua E tornare alla Cat Cave Mamma mia Vabbè Lo facciamo perdere Ah per la cronaca Ho provato A mettere La Sim Racing A farla girare Con volante Pedaliera Cambio Eccetera eccetera Purtroppo Purtroppo non me la Leggi Perché se no Ci avrei girato Davvero E intanto dagli spalti Una pioggia di Reggiseni Con scritto sopra Tutti i numeri di Telefono delle Ammiratrici Simba mi raccomando Chiama solo quelle Che hanno Dalla quarta E mi raccomando Che è sempre È sempre un bel vedere Ecco Ok Ok Dopo quasi altri 5 minuti Siamo riusciti A arrivare Al portale Torniamoci Nella Cat Cave Abbiamo trovato Le crocche Abbiamo trovato L'uovo E dai è questa palla Abbiamo trovato la chiave amiciosa La Michu Ski E ovviamente i 100 polli Bravo Bravo Michu Bravo Michu Ok prossimo livello cos'è? Intanto me lo Dog and Cat Aia Aia La cosa si mette Male Michu E ok fermiamoci qui Sì purtroppo Non sono riuscito a fare più di così Nonostante abbia giocato un'ora e mezza Ho giocato un'ora e mezza a stare qua Purtroppo ci siamo piantati male Più di una volta E tra Una volta che ho dovuto riavviare la partita L'altra volta che siamo rimasti incastrati Una macchina addirittura sparita Sì ecco Succede succede Comunque nel prossimo episodio vedremo cosa fare Il titolo promette Il titolo promette è porchi sicuramente Comunque se il video vi è piaciuto Mettete like Condividete Iscrivetevi al canale Fate un po' il cazzo che volete Tanto ormai lo sapete E noi se vorrete ci vedermi in un prossimo episodio Ciao ciao